gentili telespettatori buona giornata dopo la sconfitta del del campo largo quasi campo largo in liguria il pd si divide in due e schlain finisce sotto accusa da metà del partito accusa perché ha preso il 28,5 per cento come partito democratico se la coalizione non funziona perché ci sono veti questo sì questo no e questo campo largo senza renzi è mancato magari quel pezzettino che avrebbe magari fatto li avrebbe magari fatti vincere però a questo punto che cosa c'entra la schlain perché quelli che si definiscono democratici ce l'hanno con la capa del partito che si definisce democratico i riformisti perché sono le varie correnti dentro il partito democratico sono prevalsi veti ai veti e seguito un errore politico o perbacco quante parolone complicate che si raccontano da quelle parti la realtà è che avete perso punto e basta cambiamo pagina no perché ce l'avete con la povera ellie schlain cosa volete da lei lasciatela in pace mi fa fare tanti bei video dovrò ringraziarla ufficialmente perché è la regina di questo canale è la regina del celebrità di questo canale vi ricordate la canzone la regina del celebrità degli 883 va bene giorgia meloni gioisce ho fatto gol ho fatto gol segnale di fiducia ricevuto dai cittadini ci dà ancora più forza dice la premier per proseguire in questa direzione per costruire un futuro di concretezza e risultati per la nostra nazione mentre elena che si fa chiamare inspiegabilmente ellie schlain incita i suoi a occuparsi delle prossime regionali quelle in emilia romagna che dicono praticamente sono già vinte quelle dell'umbria tutte da costruire perché la candidata del centro-sinistra stefania proietti non non piace agli elettori diciamo in gergo non sfonda non non ha questo appeal verso l'elettorato e dicono che la segretaria e la segretaria e la segretaria avrebbe fatto passi falsi quali ha preso il 28,5 per cento ma la volete lasciare stare sta poverina qua ma lasciatela stare lei c'ha l'armocromista sorride sempre dice cose senza senso ma la volete lasciare in pace o no e vi dovete far arrabbiare lasciatela stare mi volete togliere un giugliel così prezioso in questo canale volete magari cacciarla via per far arrivare uno come enrico letta che solo a pronunciare il nome mi addormento comunque avrebbe fatto degli errori elena passi falsi della segretaria cia 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 allora alessandro alfieri componente gigva della segreteria dem nonché esponente di spicco dell'area bonaccini al bonaccini c'è anche l'area che prende il suo nome no area bonaccini slargo bonaccini piazza bonaccini dice in liguria purtroppo sono prevalsi veti e ai veti è seguito un errore politico pensare che si dovesse scegliere tra il 6 per cento di conte e il 2 per cento di renzi che si leggevano nei sondaggi e qual è l'errore scusate non ho non afferro qual è l'errore conte diceva norenzi renzi diceva per me va bene conte ma conte diceva norenzi quindi o renzi o conte la schleine ha scelto quello che ci aveva più voti voi cosa avreste fatto quindi quale sarebbe l'errore di elena non ho ancora afferreto non ho ancora capito quale sarebbe l'errore della segretaria cia 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 dice ora bisogna riflettere perché serve saper vincere eh serve saper vincere guardate che se se voi avete tutto l'ottimismo che volete no come tonino guerra l'ottimismo il profumo della vita e poi diceva quella roba quindi l'ottimismo il profumo della vita diceva tonino guerra silvio berlusconi il leggendario diceva che bisogna essere sempre ottimisti elena ci prova sorride sempre fa sempre vedere di essere ottimista però se la gente non ti vota cosa vuol dire serve saper vincere se la gente ti vota vinci se non ti vota non vinci quindi cosa significa saper vincere chi è uno che sa vincere cosa vuol dire saper vincere o vinci o perdi non sai vincere o sai perdere o vinci o perdi arriva giuseppe che si fa chiamare beppe sala sapete che a sinistra hanno tutti nomignoli soprannomi io potrei farmi chiamare luke skywalker sono tuo padre andiamo avanti dal posto che dire sciocchezze quindi bisogna riflettere perché serve saper vincere e giuseppe che si fa chiamare beppe sala indica indica qual è al suo avviso il problema dice quello che è palesemente deficitario è la forza centrale quella moderata quella per intendersi che secondo l'istituto cattaneo ha consegnato la vittoria a bucci come ammette lo stesso nuovo presidente di regioni cioè italia vive azione ci hanno aiutato parecchio chi lo sa se ci fosse stata ci fosse stato renzi nella coalizione col suo italia viva che è dato all'uno e mezzo al due al due e mezzo voi sapete che quando si è in coalizione la somma non funziona se due partiti hanno il 3 e il 3 quando si sommano non fa 3 più 3 6 diventa 4 di solito è così quando si fondono quando ci sono alleanze non è una somma viene un numero inferiore quindi è possibile che anche correnzi probabilmente non sarebbero arrivati da nessuna parte non sarebbero arrivati a vincere le elezioni debora serracchiani ce l'ha con conte l'interdizione non è più accettabile una lunga serie di sconfitte pone interrogativi sui modi in cui il pd vuole parlare com'è che vuole parlare il pd in dialetto in in gallico com'è che deve parlare stupidi in in dialetto romagnolo non lo so in milanese avete capito che anche questi questi nel pd vogliono dare la colpa a elena ma non sanno cosa inventarsi la colpa la colpa la colpa non c'è la colpa avete preso un po meno voti del centrodestra avete perso ma potevate prendere anche un po più voti del centrodestra e vincere avete perso per una manciata di voti questa è la realtà più basilare il centrodestra ha vinto per una manciata di voti il centrodestra festeggia e il pd dà la colpa a elena che elena che colpe che cavolo di colpe ha povera elena lasciatela in pace per favore smettiamola di avercela con la segretaria cia 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 c